Ciao a tutti, benvenuti. In questo video rispondo ad alcune domande che mi avete posto riguardo alla voce dura e come rendere una voce invece più flessibile, più morbida, più calda, più fluida. Perché avviene una voce dura? Come mai? Avviene perché i nostri muscoli del viso, che concorrono proprio all'articolazione e alla produzione del suono, sono serrati o sono costretti. Quindi ad esempio, se io rilascio invece i muscoli, sentite come il suono cambia. Ho utilizzato una M perché è una consonante che porta la voce spontaneamente in avanti. Facciamo questo esercizio. Con la M immaginiamo di masticare la nostra M. Pensate a un boccone molto, molto, molto ampio, molto grosso. Questa M deve essere masticata continuamente. Come se diceste Nguam, 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 a bocca chiusa. Sentite tanto rilassamento all'interno appunto della bocca e questo suono come una sorta di gomma, di chewing gum o di pasta maù che viene sempre morbidamente e fluidamente scorre, come se fosse tirato continuamente. Mi raccomando, non abbiate paura se vi esercitate. È importante che esageriate questi movimenti. Ovviamente è un esercizio, poi non è che cantate masticando. Però vi aiuta a sentire questo suono che è morbido e allo stesso tempo appunto poi gira in avanti, va in avanti perché la muscolatura è morbida. Potete fare anche dei salti di quinta. Sentite come il suono va avanti in questo modo. Spero questo brevissimo video vi sia stato utile. Vi mando un saluto. Se avete domande ponetemele e vi risponderò molto volentieri. Ciao!